La carcassa di un altro elefante nel parco nazionale di Tsavo, in Kenya. Il governo schiera un maggior numero di ranger nelle aree protette, ma i braconieri rispondono con tecniche sempre più sofisticate. Come spiega Brian Atkins, direttore regionale dell'organizzazione no profit Wildlife Works. Il commercio illegale attira sempre più denaro e purtroppo ciò consente l'utilizzo di una tecnologia sempre più evoluta. In Sudafrica i braconieri impiegano elicotteri visori notturni e adesso questi ultimi stanno facendo la loro comparsa anche qui. Il braconaggio però non è l'unico problema. Il suolo è stato devastato da pratiche di sboscamento forzato, anche con il fuoco, da contadini e produttori di carbone a legna in cerca di rapidi guadagni. Problemi inaspriti da global warming. Prevenire incontro le difficoltà un programma pilota di Wildlife Works, finanziato dall'ONU, sta cercando di ridurre i danni e di preservare le foreste. I contadini infatti possono monetizzare dei crediti di anedride carbonica difendendo e ripiantando gli alberi. Un'attività che sta dando da vivere a quasi 100.000 chenioti in ambito rurale, finanziando anche nursery, arboricole e programmi anti-bracconaggio. In una regione pesantemente diseredata, il progetto permette a un individuo di guadagnare circa 270 dollari all'anno e di considerare quindi l'ambiente una risorsa economica diretta e personale da difendere. Un circolo virtuoso, una possibilità di guadagno sicuro e sostenibile, finirà anche per asciugare il bacino di rigutamento del bracconaggio, dando così una mano anche agli elefanti.